Insieme alla ciliegia, all'uva e al fico, è uno tra i frutti più buoni della terra di Bari, in particolare delle campagne del sud-est barese. Stiamo parlando della percoca, celebrata nell'ultimo fine settimana a Turi. Per le vie della cittadina i visitatori hanno potuto degustare percoca e sangria, oltre ai panini con la zampina tornata per strada per l'occasione. Tanti gli ospiti illustri che non hanno voluto disertare l'appuntamento, tra questi anche il presidente del Consiglio regionale Onofrio Introna. La regione deve sempre più sentirsi impegnata a sostenere queste produzioni di eccellenza, di qualità. La percoca, la ciliegia ferrovia, l'olio, il vino, i prodotti dell'ortofrutta, sono degli straordinari ambasciatori della buona tavola e del buon mangiare per vivere bene in Europa. Il premio della percoca più grossa è andato al produttore Trisolini, con un frutto da 449 grammi, appena 6 grammi più pesante di quella del produttore Petruzzi. Ma c'è stato spazio anche per lo spettacolo, in particolare per la danza dei Sette Mari, che ha fatto ballare la piazza di Turi fino a tardi. Ogni anno la Proloco di Turi ci chiama per chiudere questa grandissima sagra, la sagra della percoca, importante poiché è una sagra molto antica, che è stata rivalutata solamente due anni fa e che vede ovviamente la partecipazione di tutti i paesi qui intorno.